Una presentazione della candidatura alla carica di sindaco del comune di Castellabate attraverso una diretta streaming sui social e in tv. Domenico Di Luccia, consigliere comunale di Castellabate, rompe gli indugi e presenta il suo progetto per Castellabate, sebbene per grandi linee, emerge chiaramente che la programmazione, l'innovazione e la sostenibilità sono le parole chiave del futuro, ha affermato il candidato, dicendo basta alle perdite di tempo e ai vecchi modi di fare politica. Io conserverò sempre l'entusiasmo del consigliere che sono stato, la determinazione, la tenacia, la costanza e soprattutto la concretezza dell'assessore di questi ultimi tempi e il desiderio di essere, come ho detto prima, il sindaco della gente, il sindaco della mia comunità, chiamato a rappresentare solo ed esclusivamente la mia comunità. Quindi dicevo, bisogna effettivamente lavorare affinché questa nuova idea si possa concretizzare. Io mi presento questa sera in video da solo, ma non per tracciare un aspetto autorreferenziale mio, personale, mi presento da solo perché ritengo opportuno che il candidato sindaco si debba far conoscere dalla propria comunità, il candidato sindaco deve essere percepito in modo costante, reale, dalla propria comunità che dovrà guidare. E poi darò la strada, aprirò la strada ai miei candidati, coloro che hanno scelto di condividere il mio percorso politico, le mie idee, il mio entusiasmo, la mia azione, la mia determinazione, che sono aggettivi che hanno caratterizzato sempre il mio percorso politico. E quindi questo è il messaggio, non sono da solo, sono accompagnato da una squadra di persone nuove, di volti nuovi, di persone che hanno a cuore come me il benessere e il progresso di questo territorio. Questo è quello che io voglio lanciare questa sera, un messaggio di novità, un messaggio di speranza, un messaggio che deve essere percepito dai miei concittadini, perché è un messaggio di cambiamento. Io non mi propongo come cambiamento, i più maliziosi, quelli che vogliono insinuare, vogliono mettere in discussione la mia candidatura, parlano di cambiamento. Io non incarno il cambiamento, io rappresento un nuovo modo di fare politica e quindi è una politica diretta fatta di concretezza, fatta di azioni concrete che hanno portato risultati al territorio. Ma nuovo è il ruolo che aspiro ad assumere. Nuove sono le persone con le quali voglio costruire questa nuova avventura politica. Nuove saranno le idee, nuove saranno le azioni. Io incarno semplicemente un nuovo ruolo che aspiro ad assumere per rappresentare al meglio la mia terra, al meglio le cose che si devono realizzare per la crescita della mia comunità.